Sono stati condannati a pene complessive per oltre dieci anni tre ladri georgiani responsabili a vario titolo di furti in abitazione ed evasione dagli arresti domiciliari. Il processo si è svolto a Udine davanti al giudice Carla Missera. I tre componenti della banda, tutti di 34 anni, erano accusati di furti in abitazione in concorso commessi tra il luglio e il novembre del 2022. Arrestati dai carabiniere e destinatari di provvedimenti di custodia cautelare ai domiciliari, tutti e tre si erano resi irrepedibili violando la misura ed oggi non erano presenti in aula. Tre anni e nove mesi sono stati inflitti a Vasil Miasoedov, ritenuto responsabile di tutti e tre gli episodi avvenuti a Trieste il 6 luglio, Lignano il 10 e aprile marittima l'11 novembre del 2022. In quest'ultimo caso con un bottino di 10.000 euro, refurtiva recuperata e restituita ai proprietari. Gli altri due imputati, Bora-Jegaliashvili e Beko Albutashvili, sono stati condannati entrambi a tre anni e cinque mesi per il furto in concorso a Lignano e per le evasioni dai domiciliari. Sempre questa mattina il gruppo Matteo Carlisi ha accolto la richiesta di patteggiamento a tre anni e quattro mesi e una multa di 14.000 euro per un 43enne di Rive d'Arcano per possesso a fine di spaccio di sostanze stupefacenti tra cocaina, marijuana ed ecstasy. All'uomo erano contestati 13 episodi di spaccio tra il 2021 e il 2023. Sempre per spaccio ha accolto il patteggiamento a quattro mesi e 20 giorni per un 47enne anche lui di Rive d'Arcano, per episodi tra gennaio e marzo del 2023. Per altri due indagati il GUP ha disposto rispettivamente un rinvio a giudizio e l'accoglimento di una richiesta di messa alla prova. Si registra infine una convalida di arresto per un marocchino di 28 anni, ospite della caserma Cavarzerani, accusato di rapina impropria nei confronti di un cittadino ganese a cui aveva rubato il telefonino in via de Lopardi ad Udine, aggredendolo quando la vittima aveva tentato di riprendersi l'oggetto. Il giudice Rossella Mieli ha risposto alla misura cautelare del divieto di timore in provincia di Udine, rinviando al 16 dicembre il giudizio direttissimo.